Eccoci adesso con HPE, se possiamo conoscere qualche cosa di questa realtà nata dallo spin-off dell'attività di U.R. Packard. Diciamo più che spin-off, la separazione dell'attività della ben nota U.R. Packard in quello che è HP Inc, che ormai è l'end user computing, diciamo, e HP Q&R Enterprise, che è la parte di data center, quindi tutte le soluzioni che sono server, storage e networking che possono essere abitanti al business o semplicemente soluzioni alternative a tutte quelle che sono proposte sul mercato. Lato server abbiamo un portfoglio molto vasto, lato storage abbiamo ottime soluzioni all flash, lato networking, la nuova divisione nata di Aruba ha soluzioni molto accattivanti, lato end user e wireless e anche data center network ha il suo dire nel mercato con molta concorrenza di oggi.